Il tema dell'avventura fin dall'antichità si lega al mare. L'avventura per eccellenza è il viaggio di mare, per una ragione ben precisa, perché è lo spazio che mette in discussione le nostre certezze, i punti di riferimento, le nostre sicurezze. In mare noi dobbiamo cambiare pelle, cambiare personalità. In questo senso Oceano è la figura archetipica del mare e dell'avventura. I grandi libri di avventura sono sempre libri che anche quando non attraversano il mare utilizzano metafore di navigazione, perché è proprio lì che troviamo la dimensione dell'incertezza, dell'avvenire come evento improvviso e mostruoso. Quindi fare avventura significa mettersi per mare ed esporsi al rischio dell'imprevedibile. Oceano per me è stato in primo luogo l'infanzia. L'incontro con Oceano avviene prima del sapere, prima di qualsiasi forma di intellettualizzazione. È stato un momento della vita che ha percepito una forma di intensità unica. Quando sono tornato a parlare di Oceano attraverso la filosofia, attraverso la storia di chi si è misurato tra letteratura, pittura, filosofia con questo tema, è stato un modo per rielaborare qualcosa che avevo vissuto. Quindi Oceano per me è l'incontro tra vita e filosofia nella sua forma perfetta. Maupite è stata un'isola trovata in questo modo, sulla cartina, a caso. Quando ho capito che era un'isola poco frequentata fuori dalle rotte turistiche, ho deciso che lì sarebbe stato il luogo dove provare a misurarsi in maniera davvero disarmata con Oceano. È stata un'avventura per me assolutamente interessante anche perché richiamava avventure che nella mia formazione sono state fondamentali. Quindi per me è stato un modo per mettere insieme una costellazione di questioni in uno spazio che per me rimane ancora uno spazio di vissuto, intimo, con cui non mi sono davvero spiegato fino in fondo e questa è la cosa positiva.